Buongiorno a tutti, nell'ambito dei festeggiamenti dei dieci anni di sinestesia, oggi parliamo di People and Inclusion insieme ad un ospite veramente d'eccezione, un altro torinese doc, ed è Walter Rolfo. Grazie Walter. Grazie a te, grazie a voi, è un piacere essere qui con voi e parlare di futuro, di persone, di impossibili. Bene, senti, nella tua vita tu hai fatto tantissime cose, mago, illusionista, consulente di grandi aziende, hai fatto veramente tantissime cose e qual è il filo conduttore, il fil rouge tra tutte queste attività che tu hai fatto? Allora, tutto nasce da bambino, quando sei bambino io ho iniziato a fare il mago, lo continuo a essere lucidamente schizofrenico, perché sono nato mago, mi sono involuto e voluto ingegnere, quindi vivo un po' confuso, con una bacchetta magica nella mano destra con la quale inseguo sogni, è un folle excel nella mano sinistra con il quale cerco di realizzarli. Ho iniziato da bambino a fare il mago e quando sei piccolo, metti una moneta in mano e cerchi di travi il segreto per farlo sparire, è buffo perché mentre i tuoi amici sono fuori che giocano, si divertono, corrono all'aria aperta, tu chiudi la porta di casa, anche della stanza, perché nessuno ti spi e cerchi di far sparire questa moneta. Passano i giorni, le settimane, i mesi e se li conti anche i minuti, finché a un certo punto la moneta sparisce. Il dono grande è che ottieni, non è il trucco per far sparire la moneta, chi se ne frega il trucco, non è importante, ma il segreto vero che ottieni è che se insisti, insisti, insisti e non ti arrendi mai, puoi realizzare l'impossibile. Ecco, questo è il dono più grande che mi abbia fatto la magia e credo che sia il filo conduttore di tutto quello che ho fatto, perché poi ho inseguito mille vite e sono andato a vivere in America a fare il mago in un casino, poi sono tornato e ho iniziato a lavorare in televisione, poi sono diventato autore e capo progetti in Rai. Ecco, diciamo che il grande vantaggio è che avessi la convinzione profonda che insistendo fino in fondo si potesse realizzare l'impossibile. E quindi se devo dire che cosa abbia unito tutto è la convinzione che la vera difficoltà è capire dove andare e poi un metodo si troverà sempre. Quindi se dovessi dare un consiglio è capite dove andare, se avete un impegno profondo con voi stessi e con gli altri, dichiaratelo, perché se lo dichiari per i principi di coerenza poi cerchi di raggiungerlo, ma nel momento in cui sai dove andare c'è sempre un modo per arrivarci. Ecco, questa è la convinzione profonda, quindi che l'impossibile non esista, ma sia fondamentalmente un limite della nostra mente. Più volte hai affermato che bisogna uccidere delle parti di sé per poter costruirne altre. E come riesci a fare questo? E soprattutto quando capisci che è arrivato il momento di uccidere una parte, di cominciare una nuova avventura, una nuova parte della tua vita? Io credo che si debba prendere coscienza che c'è un'età per tutto. Perché il problema è che molte volte noi cerchiamo di rubare anni alla vita e non ci rendiamo conto che invece ogni età ha un modo di essere, un modo di fare, un lavoro, una famiglia, delle persone con cui vivere e non c'è niente di sbagliato nel vivere al meglio quello che hai come occasione in quel momento, ma devi renderti conto che magari non può essere per sempre. Io ho iniziato, come dicevo prima, a fare il mago da piccolo e quando poi sono diventato capo progetto in Rai, il direttore di Rai 2 mi disse Rolfo, adesso devi prendere una decisione perché già la gente crede poco ai giornalisti, se fanno puri maghi non ci crede nessuno. E lì ho preso le carte al chiodo perché c'è un'età per tutto. Mi sono reso conto che se a 40 anni, 45, avessi fatto il mago come facevo da bambino, sarei stato un dissociato. Il problema è vivere un'età che non ti appartiene più. E avere il coraggio di cambiare ha una valenza in tutto. Io infatti scherzando dico appunto che ho ucciso il mago per poi nascere come ingegnere, come formatore, come conduttore, come adesso in qualche modo fondatore di Masters of Magic. Ma capita nella vita personale, devi avere il coraggio di uccidere il bambino per diventare uomo, devi avere il coraggio di uccidere il ragazzo perché in quel momento vi prendete responsabilità, devi avere il coraggio di uccidere dei rami di business per interprendere nuovi, perché tanto se non lo prendi tu, se non prendi tu questa coscienza, la vita la prenderà per te. Ci sarà un momento in cui non starà più bene a te oppure non stare più bene a tua la vita. E quindi il segreto secondo me è quando sei al massimo di quello che stai vivendo, iniziare un minuto prima a pensare che era il tuo momento di saltare, perché se non vivi nel futuro, alla fine il futuro ti riporta con i piedi per terra. Allora Walter, per noi in sinestesia il tema delle persone e dell'inclusione è centrale nel nostro modo di fare azienda. Come ci raccontavi prima, tu sei anche consulente in grandi aziende, quindi vivi anche questi contesti aziendali. Come la vedi la situazione in Italia rispetto a questi temi e qual è la tua opinione ovviamente rispetto a questo? Da ingegnere parto dai numeri. Le aziende che sono realmente inclusive, quindi concretamente inclusive, hanno un fatturato maggiore del 16% rispetto ad aziende simili in mercati simili. E l'80% delle persone in Italia è più propense ad acquistare prodotti di aziende realmente inclusive. Quindi vuol dire che solo 1 su 5 in Italia è insensibile al concetto di inclusività. Quindi dal punto di vista del performance è oggettivo che esseri inclusivi sia un vantaggio. Non solo, dal punto di vista anche delle persone e quindi anche dal punto di vista delle performance non soltanto numeriche, c'è un clima aziendale migliore. L'altro grande vantaggio è che attiri più i talenti. Dal punto di vista del manager c'è un miglioramento dei costi perché c'è meno assenteismo, meno malattia. E soprattutto c'è una maggiore proliferazione di idee perché c'è una maggiore creatività. Quindi è oggettivamente un vantaggio essere un'azienda inclusiva. E questo mi serve perché se posi delle basi importanti sui numeri da qui puoi costruire tutto il resto. In realtà quello che io credo è che non è solo il concetto di avere performance migliori, ma un'azienda migliore perché è fatta da persone migliori. E quindi questo si riverbera in tutto. Cioè persone migliori sono persone che trattano meglio i clienti, sono persone che hanno a cura i clienti, sono persone che hanno a cura le persone con cui lavorano, sono persone che se devono fare una notte in più per chi fa creatività, per creare un progetto che possa essere utile o che possa aiutare un cliente, lo fanno volentieri. E quindi non è solo... è una selezione all'accesso. C'è una frase molto carina di Gruccio Marx che diceva che io non farei mai parte di un circolo che accettasse uno come me tra i soci. Cosa vuol dire? Che in questo circolo, che è quello delle persone inclusive, non entrano le persone che in qualche modo non sono inclusive. E quindi è un automiglioramento. Per quanto riguarda l'Italia, l'Italia è lunga, che è una nazione lunga, è una nazione che ha mille sfaccettature, mille variabili. E' ovvio che se tu vai in grandi città, in grandi metropoli, dove hai aziende multinazionali con un'attenzione particolare, è più facile trovare l'inclusività e l'inclusione e una migliore gestione delle persone che poi ha mille sfaccettature, che non è soltanto di razza, di genere, ma è anche per esempio accettare un papà che dovrebbe avere del tempo per curare i figli o per allattare i figli. Un papà sto dicendo, quindi o una mamma. L'inclusione ha mille sfaccettature. Noi attualmente, soprattutto in un ultimo periodo, banalizzandola, pensiamo soltanto di genere o di razza, ma l'inclusione è anche nell'accettare una persona che magari in quel momento non è tanto felice e ha bisogno di una cocola in più. Cioè l'inclusione è molto più profondo di quanto in questo momento i media o i media stiano raccontando.